Ciao a tutti ragazzi sono SamSniperShot e oggi sono qui con un piccolo gameplay che devo dire giusto due parole così su quello che farò nel mio canale e dei video a venire. Come tutti saprete è uscita la nuova modalità di zombie ovvero trasformato e la nuova mappa The Rise e ci sto lavorando su per cercare dei glitch da fare e sinceramente ne ho già fatti cinque all'incirca e ne ho altri da fare quindi prossimamente nel mio canale troverete tantissimi glitch riguardo quella mappa se la cosa vi interessa questi glitch che volete provare eccetera continuate allora a seguire il mio canale che ne arriveranno tantissimi. Poi insieme ad altre due persone che sono KSansins e Martinelli Mattia che dopo metterò il loro link di youtube in descrizione avevamo deciso sinceramente di fare una cosa nuova una cosa che penso nessuno almeno io non ho visto un road to easter egg. Praticamente fare un video ogni volta che cercavamo di fare l'ester egg di The Rise e vedere cosa usciva fuori sai divertendoci tutto quanto per far ridere anche no? soltanto che è andata fallita perché abbiamo fatto il primo video abbiamo iniziato a registrare ma nello stesso video in cui abbiamo registrato abbiamo fatto l'ester egg pure a si può dire vabbè fortuna perché proprio non ce l'aspettavamo cioè eravamo lì per staccare tutto suicidarsi eccetera perché eravamo abbiamo iniziato in quattro e siamo rimasti in tre allora l'ultimo passaggio proprio abbiamo tentato la sorte e ragazzi ci ha dato l'ester egg fatto non so come non me lo chiedete abbiamo fatto i passaggi ma come ce l'ha dato non lo so quindi arriverà anche questo nuovo live che dura parecchio due ore circa due ore e mezza e lo caricherò ma molto più avanti perché ci vuole tempo comunque e questa partita qui è una partita normalissima velocissima di quattro minuti circa giusto per dirvi queste cose qua e soprattutto sto anche lavorando per guagna no? e arriveranno anche altri glitch sul canale di guagna che red monterà e blue mi registra anche dei glitch quindi ringrazio anche guagna blu bene e per il resto ragazzi cercate di se avete anche voi di glitch da 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 proporre che magari vedete che io sul mio canale non ne ho basta che aggiungete me guagna still e mi contattate io avrò dei del tempo per voi per vedere il glitch e vedere se va bene o no e se va bene in tal caso lo registro e parlo con gli altri e se è bello ci piace andrà sul canale di guagna e anche sul mio se volete perché no il video sta quasi volgendo a termine poi un'altra partita che arriverà registrata dal cinema da un mio amico è un'altra partita che ho fatto non so se è un record però sinceramente io sono soddisfatissimo e ho fatto 123 kill ma sono morto 36 volte perché all'inizio non mi aspettavo mai che una partita fosse arrivata fino lì fino a quel punto quindi comunque io non campero non sto fermo non ci riesco proprio quindi caricherò anche quella partita e ci divertiremo perché dura un quarto d'ora e saremo molti commentari bene il video è finito io vi saluto alla prossima da me Sam Sniper Shot ovvero guagna still ciao 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 ciao